Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio, sulla A1 in direzione Roma per lavori 2 km di coda tra Barberino e Calenzano, sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla Fipili per un veicolo in avaria 4 km di coda in direzione mare tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina, per lavori tra Montelupo ed Empoli Est, 2 km di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Montelupo, rallentamenti tra Montelupo ed Empoli Est in direzione mare, chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze, per traffico intenso rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci, code in direzione mare in uscita all'Astra Assigna. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Il corso adrenaline! Città metropolitana di Firenze. Buon viaggio!